In occasione dell'Epifania, i Re Maggi hanno percorso le strade del Centro Storico di Fasano, distribuendo doni ai bambini presenti. L'evento fa parte delle celebrazioni del Luci di Natale a Fasano The World of Animals. Un progetto promosso dal Comune, ideato da Euforica, è realizzato da Paolicelli per commemorare il cinquantesimo anniversario dello Zoo Safari. La sfilata, che ha visto la collaborazione dell'Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco, si è conclusa presso la Chiesa Matrice. I Re Maggi hanno distribuito peluche a forma di animali donati dallo Zoo Safari e segnalibri educativi riguardanti l'importanza degli animali per l'ecosistema e il pianeta. L'evento si ispira ad un antico proverbio del Sud Italia che narra come, nella notte dell'Epifania, gli animali possano parlare. Il programma Luci di Natale a Fasano The World of Animals, realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoo Safari e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, include anche un'installazione luminosa a tema animali nel centro storico, visitabile gratuitamente fino al 13 febbraio. Queste luci, composte da lampadine LED a basso consumo energetico, hanno attirato migliaia di visitatori, creando un'atmosfera unica durante il periodo natalizio. Lo Zoo Safari, inaugurato il 27 luglio del 73, è oggi il più grande parco zoologico in Italia e il secondo in Europa. È riconosciuto per la sua varietà di specie animali e la rappresentazione di diversi habitat nei suoi 140 ettari. Il parco è anche un centro di conservazione, ricerca e studio della fauna selvatica, collaborando con università e centri di ricerca internazionali.